Con il no trionfante al referendum per mantenere l'attuale costituzione, il mondo dei balneari è in fermento e teme serie ripercussioni sulla bozza di riforma che riguarda le concessioni balneari. Ma ecco che ora, a pochi giorni oramai dalla fine dell'anno, arrivano delle rassicurazioni da oasi confartigianato. Ho avuto l'occasione, spiega il presidente Giorgio Mussoni in una nota, di incontrare personalmente alcuni membri del governo. E' stato un incontro positivo, nel senso che ho avuto la conferma che non ci sono variazioni rispetto al programma di cui le categorie erano a conoscenza, ossia l'emanazione di una legge delega che riconosca il valore di mercato dell'impresa balneare e quanto da sempre cerchiamo di rappresentare a tutela delle stesse. Mi è stato comunicato, prosegue Mussoni, che entro il mese di gennaio la legge delega arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri per essere approvata. Dopo il referendum e i fatti politici conseguenti sentivo la necessità di rassicurazioni e quindi sono moderatamente soddisfatto e fiducioso sul buon esito dell'Iter. Affrontiamo quindi le feste con fiducia e minor patema d'animo. Ad oggi nulla è cambiato rispetto ai programmi del governo di cui eravamo a conoscenza. Insomma, se molti temevano altri due anni di incertezze, forse queste parole potrebbero tranquillizzarli. Nel frattempo le regioni potrebbero approfittare del vuoto normativo, come sta facendo la Toscana, per varare proprie leggi in materia di demanio marittimo.